La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo ora con eccellenza dell'anno, innovazione e leadership manifatturiero. Questa volta il premio va al Cavaliere Cessaro Gustavo. Intanto che sale sul palco, leggo la motivazione per essere un'eccellenza nella costruzione di manufatti in cemento, per la qualità dei prodotti offerti, l'impegno nell'anticipare le nuove tecnologie edilizie e per la mentalità con strutture giovanili e dinamiche. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Questa sera siamo in compagnia di Gianni Cessaro, CEO della CAF Cessaro SRL, azienda leader nella costruzione di manufatti in cemento. La sua ditta ha una storia molto lunga, infatti è stata fondata nel 1955 e fin da subito si è distinta per la grande competenza e la qualità dei prodotti offerti. Ci direbbe quali sono i segreti per un'attività così duratura nel tempo? Sicuramente grande forza di sacrificio. Poi la longevità, perché siamo a 69 anni di attività praticamente, quindi alla terza generazione. Anche i nostri figli adesso stanno continuando il nostro lavoro. Naturalmente abbiamo dovuto evolverci in tutti questi anni, seguire l'evoluzione, il progresso del nostro settore, essere all'avanguardia e ricoprire tutte quelle esigenze che il mercato ci richiede in questo periodo come ecocompatibilità, certificazioni particolari come la CAM, come quella ambientale. Sicuramente abbiamo saputo essere pronti alla chiamata del mercato. La vostra realtà si distingue non solo per i prodotti e i servizi offerti, ma anche per la mentalità giovanile e dinamica con cui è strutturata. Quanto è importante, secondo lei, avere una struttura aziendale al passo con i tempi e quale strategia avete messo in campo? La strategia è quella di ascoltare anche i giovani e fare un giusto mix con l'esperienza dei più anziani. I nostri ragazzi, i nostri figli, io ne ho uno, mio fratello due, con l'elettronica, con i telefoni, con tutti gli aggiornamenti che il progresso ci ha fornito, abbiamo fatto sì che i nostri investimenti sono diventati all'avanguardia. Praticamente il calcestruzzo non si tocca più, si guarda come un panificio. È un'industria, è un'industria molto all'avanguardia, direi una tra le prime tre in tutta Italia. Questo mixage ci ha fatto risultare vincenti, sia per la quantità, sia per i grossi appalti che abbiamo preso, ma soprattutto anche con la collaborazione dei nostri dipendenti che abbiamo saputo delegare e farli diventare come membri della famiglia, farli sentire una comunità. Questo secondo me è un punto vincente. Passiamo ora al riconoscimento che avete ricevuto questa sera. Le Fonti vi ha conferito il premio come eccellenza dell'anno Innovazione Leadership Manifatturiero. Un commento al traguardo raggiunto e che obiettivi vi volete per il futuro? Gli obiettivi che ci proponiamo sono sempre quelli più grandi di noi. Abbiamo aspirazione, abbiamo competenza, abbiamo rispetto e una forza di carattere notevole, per cui non ci fermeremo adesso sicuramente. Poi c'è l'ambizione, l'ambizione di noi e l'ambizione verso mio padre, fondatore che è ancora vivo, che domani compie 91 anni. Quindi avanti. Poi devo dire che devo dimostrare alla mia terra, al mio paese, la mia forza, la mia energia, perché sono candidato a sindaco e voglio fare bene anche nella terra dove sono nato, dove sono cresciuto e dove tutti si aspettano molto da me. Spero di non deludere nessuno, io sono carico e quindi vedremo l'8-9 di giugno come andrà a finire. Però già sento molto calore da parte dei miei concittadini.